La Pisciottana è un progetto di pubblica utilità. Lo ha stabilito il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese, con un decreto ad hoc. La provincia di Salerno, con decreto numero 51 del 19 aprile, ha approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato ripristino e completamento della variante lungo la ex strada statale numero 447 di Palinuro, tra il chilometro 15 e il chilometro 18,5 per il superamento del tratto in frana tra Asce e Pisciotta. Con l'approvazione del progetto, ha spiegato il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese, conseguentemente ha anche dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di questa importante opera. Questo decreto di approvazione di ripristino e completamento della variante per il superamento della frana fra Asce e Pisciotta è un atto molto importante, ha sottolineato Strianese, che permette di proseguire celermente sui lavori della Pisciottana. La provincia procede in maniera spedita in modo da consentire l'appalto di quest'opera di grande importanza da parte della regione Campania nel più breve tempo possibile.